un forte applauso al nostro maestro tu i rifumma palla tu i rifumma palla su su ma parlo maccarone ma parlo maccarone ma parlo maccaro senza capanna e nina 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 dàmpa la pane chiamocene dàmpa la pane dàmpa l'uocore dàmpino maschia i popore la voi li e la voi la non tempo ne senza pena e non sopra la parte la voi li e la voi la attenzione prima di fare la quadriglia i nostri nonni i nostri genitori erano dei garanti uomini facevo del saluto attenzione da me da una parte gli uomini dall'altra forza eccolo qua bisogna fare il saluto facciamo un po di spazio gentilmente facciamo un po di spazio perché i nostri ballerini sono bravi sì ma hanno bisogno anche un po di spazio guardate bene perché tra poco vi faremo ballare tutti in questa meravigliosa piazza qui a calitri e chi darà i comandi sarà il nostro maestro va bene inizio attenzione li salutano eccolo qua il saluto ognuno saluta la propria dama e qua ne approfittavano per dire che aspetta re dalla paiera così dicevano a quei tempi attenzione giocavo lì ognuno lo posto ora vai si torna al proprio posto con un bell'inchino lo facciamo un applauso al gruppo di ballo la quadriglia siamo pronti per il primo passaggio questo è il gran duce in tempo vai ma che bravi sono bravi sono bravi vai 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 siamo solo all'inizio questi questi sono i riscaldamenti per un bel batticulo finale ma come sono bravi non voglio far balle ma voglio far balle ma voglio far balle ma voglio far balla vola 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 volentami ti vola la scuppa e diamo timmo come le tume chiamma caccia di palumi e ballo sott'amore chiamma caccia raffiglione la vuoi lì e 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 arriviamo subito ovunque ragazzi forza perché vedo tante persone che vogliono ballare la quadriglia vai vai è un momento molto bello magico bravi 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 ciro di ballo ciro di ballo attenzione portiamo a spasso la dama le dame al centro e gli uomini girano andiamo andiamo riscaldiamoci guardate adesso cosa fanno questi ragazzi come si esprimono c'è un bel grido eh attenzione fermalo sulle braccia dame attenzione incateniamoci vai si gira a tempo di musica ancora un grosso applauso vai oh 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 passi guardate come sono belli sorridenti loro sono giovani possono sorridere lo dico per le persone anziane più tardi che vogliono ballare la quadriglia a bocca chiusa perché altrimenti può partire la dentiera per il battitulo passi ancora bravi bravi ciro di ballo vai la compagnia venne la compagnia venne la compagnia venne sola sola manלא lo pazzoletto ethne e lupazzoletto j erstmal diga appalati Lavori lì e lavo in là E non è curioso mentre stava stuportusa Passo! Si sta avvicinando il momento del quatticulo, eh? Passi! Passi ancora! Attenzione, Mari4! Questo adesso lo faranno loro Però tra poco lo parlerete voi E sarà davvero una cosa bellissima Vedere l'acqua su Siamo pronti? Al mio 3 Si salteva sul piede destro E' uno, e' due, e' tre Oh, si! Incoraggiamoli con un applauso ragazzi Incoraggiamoli Vai con tre! Una volta li ho fatti ballare per mezz'ora così Vai con tre! Cino di palo, cino di palo Portiamo a spasso la dama, vai! Passi! Passi ancora! Ecco, dovete sapere Che in provincia di Salerno C'è un paesino Che porta come nome Santo Menna E' il paesino più piccolo Della provincia di Salerno E a Santo Menna Si usa così Allo, e' due, e' due, e' due L'uomo non c'è ma la fembra Allo, e' due, e' due E' due, e' due La fembra c'è ma l'uomo Allo, e' due E' due, e' due Allo, e' due L'uomo non c'è ma la fembra Cino di palo Cino di palo Cino di palo La accorciamo la guadiglia Poi sarà più lunga, eh Vai con tre! Con tre con Cino di palo 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 Vai con tre Con tre con Cino di palo ragazzi arriviamo subito al batticulo vai arriviamo al batticulo perché c'è tanta gente che freme siamo pronti? formiamo il cerchio è il momento del batticulo guardate bene come si fa siamo pronti? noi alcuni passaggi questa sera non li facciamo tutti per il tempo anche capiamo che c'è gente che vuole andare via però potete restare con noi fino alle 2 le 3 non vi preoccupate ho detto questo per far prendere piatto un po' ai nostri ballerini siamo pronti ragazzi? la prima botta il maschio la deve andare verso destra facciamo la prova è uno e due e tre eccolo qua il batticulo questo è il batticulo dove qui i nostri nonni scaricavano tutta la loro rabbia quando non riuscivano a prendere la dama voi passiamo un applauso ragazzi forza attenzione fermalo se va la destra è uno e due e tre e così e così è nata a botta è nata ancora vuoi maronna ecco il dolore è fattigliato vuoi girare a tu si su ma molto giro vuoi maronna ecco me tu e su ma che diri da sta sacca vuoi cucer è fattigoli è nata a botta non è ancora ma se un ultimo giro un ultimo giro vai preparate le coppie ragazzi che manca poco perché anche voi adesso ballerete la quadriglia insieme ai nostri ballerini preparate le coppie attenzione ferma voi se va la destra è uno è due è tre qui ci vuole l'applauso questa è la quadriglia a batticulo l'abbiamo accorciata di tanto perché vogliamo la vostra partecipazione qui allo Sponsfest di Calitri forte l'applauso non si sente ragazzi e dai che è ancora presto più applauditi più applaudite più loro continuano eh vai allora let's la 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 guarda come sorridono giro di ballo giro di ballo ragazzi tutti in pista adesso a ballerano vediamo quante coppie riusciremo a mettere qui in questa piazza forza forza ragazzi siamo in pochi siamo in pochi siamo in pochi ragazzi dai forza tutti in pista tutti in pista tutti in pista forza facciamo spazio facciamo spazio eh vedo che avete paura eh avete paura qui non paga la guadrilla e qui a uso lupilla forza portiamo a spasso la guadrilla il nostro maestro vai guarda cosa conviene vai vai allardiamoci 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 ragazzi allardiamoci allardiamoci andiamo oltre il mixer andiamo oltre il mixer andiamo oltre il mixer sapete che cazzo è un mixer guardiù Claudio alza le mani Claudio eccolo là andiamo oltre quei ragazzi forza oh vai 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 lo possiamo dire maestro che andrà spunzata andiamo a spunzare adesso andiamo a spunzata spunzata guardi che va caldo dame i cavalieri passe ragazzi bisogna cambiare dama Claudio possiamo alzare il microfono Claudio alzami il microfono questo qua questo qua guardi un fondo qua ragazzi dovete andare oltre il mixer oltre eccoli là eccoli là eccoli là stanno arrivando anche da lontano vai a spazio a spazio a spazio a spazio a spazio giro di paloma giro di paloma vai ok vai su come prima prima a spazio a spazio Davo il figlio, davo il figlio E' l'opera il figlio, e ci stanno subito Davo il cavallo, un aspetto! Davo il cavallo, un aspetto! 3x4 ragazzi, incateniamoci con le mani, incateniamoci con le mani, ecco qua, bisogna si partire le carcanze che vi avete già cantato fino ad ora, e qui è il momento giusto, siamo pronti, mani 4, all'aglio 3, per la 2, e qui vi capisco, ma fare uno maccarone, ma fare uno maccarone senza capata, e vola, 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 non c'è isca, non c'è vola, e vola, 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 lascio un pegg, e non t'invocato, vola, vola, chi è designato dei pau, Gamma, schi ha uscuna danno, tre balli sotto il cuore, Gamma, cacciano il Tutto, la 5, la 5, la Investe, senza ven 돌아, 6, la 5, la Simon e la Davide Cavalieri a spasso! Davide Cavalieri passe! Davide Cavalieri passe nella vota! Davide Cavalieri passe! All'uso Sant'Amen! L'oppo non cimbo la pippa! Vai! Bravi, bravi! All'uso di Mater Domini! Vai! Bravi, guarda come sono bravi! Basta sentire la rima ragazzi! Dovete sentire la rima! All'uso di Mater Domini! All'uso di Mater Domini! Già sono, già sono, avusate i Mater Domini! Com'è la rima? Sentite la rima e non vi sbagliate mai! Vai! All'uso di Sant'Urena! L'oppo non cimba la femmina! Vai, 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 vai! No! Al contrario ragazzi! L'oppo non cimba la femmina! L'oppo non cimba la femmina! L'uomo con la mano sulla spalla della donna! Bravi, vai, vai! Guardate come fanno gli altri! Guardate come fanno gli altri! Guardate! Ragazzi dai forza! Dovete camminare ragazzi! Dovete camminare! A l'uso di Mater Domini! La femma della cimba la femmina! All'uso di Mater Domini! La femma della femmina! All'uso di Mater Domini! La femmina! La femmina è finda! Bravi! All'usere matti il dom e il la femmina cimbalopolo All'usere santo menna e la mano cimbala femmina All'usere riuni la mano faccia lì e scostumato Giro di palo, giro di palo, vai Uscito Ma come vai? Ma come vai? Il maestro bella tempo di musica